Musica Un dipendente dell'ENAIP di Bari ha occupato la sede dell'ente nazionale atli istruzione professionale perché non percepisce lo stipendio da 15 mesi. L'uomo sta protestando seduto sul davanzare di una finestra dell'ENAIP in via Vita Antonio De Bellis. Minaccia di lanciarsi se non verrà ascoltato. Nella sua stessa situazione ci sono altri 220 dipendenti.